Va ora in onda, questione di sguardi, a cura di Maria De Nicola. È questione di sguardi, è un attimo, così, così, lunatico, così, così, fantastico, così, così, buongiorno. Ciao Maria, ciao a tutti, come stai Maria? Tutto a posto, sì, tutto ok. Sì, tutto ok, tutto ok. Oggi abbiamo preparato una puntata speciale. Una diversa. Eh sì, intanto ciao a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Maria De Nicola. Ecco. I soliti due. I soliti due, ma c'è un terzo oggi, vero Maria? Sì, oggi abbiamo un ospite particolarmente speciale, diciamo, che ha dato lustro alla nostra Italia in più occasioni. E anche, se posso permettermi di dire, un mio amico di Vasca in varie competizioni. Diciamo che per quanto riguarda il nuoto ci siamo incrociati in varie competizioni e ho deciso proprio di farlo parlare, diciamo, ai nostri microfoni, anche in modo virtuale, perché lui è di Napoli. Però siamo riusciti a instaurare questo collegamento, proprio perché mi piace il suo modo di vivere la vita allo sport. Eh sì, infatti ce l'abbiamo al telefono. Come si chiama? Emanuele Marigliano. Ok, che si è appunto qualificato ai 50 stile categoria S3, purtroppo non è riuscito a insomma classificarsi per le finali, però è campione, parliamo qui delle Paralimpiadi, invece è campione europeo ai campionati appunto di Madeira in Portogallo nei 50 rana categoria SB2. E poi a Tokyo sempre si è classificato invece in quinta posizione nella gara dei 50 rana categoria SB2. Abbiamo detto tutto, credo, vero? Credo che ci siamo, giusto? Sì, sì, manca solo la finale nei 150 misti olimpica dove siamo arrivati settimo. Ah, a posto. Quella la volevamo far dire a te, Emanuele. Volevamo dare questa soddisfazione. Ecco, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, abbiamo un po' di curiosità, vero Maria? Sì, siamo pronti ad ascoltarti, insomma. Ci tenevo molto a fare questa intervista, quindi tu sei pronto? Certo, certo. Allora, io inizierei dandoti la possibilità di raccontarci un po' di te in maniera generale, in modo che anche gli altri possano capire meglio. Allora, io sono Emanuele, ho 25 anni e vivo a Napoli. Faccio nuoto dal 2015, insomma. E ho iniziato a gareggiare nel 2017. Sono diplomato come periodo informatico e adesso sto decidendo un po' se oltre al nuoto posso proseguire il cammino degli studi, ma adesso decidiamo con calma, insomma. Sicuramente se sarà così sarà una cosa che andrà di pari passo insieme al nudo, ecco. Io so benissimo che quando si è una passione difficilmente ci si arrenda. La passione e la voglia di raggiungere l'obiettivo fa la differenza in qualsiasi campo che sia, nello sport, nella vita. Dipende tutto come si vive la cosa e con quanta voglia la si fa. Penso che sia proprio quella che hai detto la chiave per, diciamo, riuscire a realizzare qualcosa nella vita di Bella, insomma. Sì. Che patologia hai, se posso chiederlo? Sì. Allora, io sono affetto da letra paresi spastica, che è una patologia che colpisce tutti e quattro gli arti. Sono, diciamo, è un problema che c'è dalla nascita dovuta ad una sfissione natale. Però, nonostante questa mia problematica, insomma, diciamo che riesco a vivere la mia vita al 100%. Cioè, riesco, ovviamente, con le mie metodologie, i miei sistemi, riesco a far sì di poter far tutto, ecco. Guarda, ti dico la verità, cioè, abbiamo la stessa patologia. Non so quanti dei nostri microfoni lo sanno, comunque, non so se anche tu lo sapevi, però, questo è uno dei motivi per cui io ti ho sempre stimato come persona e come atleta. E per cui ti ho voluto, in particolare, proprio a te in questa occasione, in questa giornata, in questa mattinata. Quindi capisco bene quello che dici, capisco il discorso dei sistemi di adattamento e capisco anche la volontà che hai nel fare le cose. Ecco, Emanuele, che cosa rappresenta nella tua vita lo sport? Lo sport, per me, è un qualcosa che mi ha aiutato tanto e che mi aiuta ancora oggi tanto perché il nuoto è stato quell'occasione, quell'elemento che tutt'oggi mi dà modo di mettermi in gioco e di farmi sentire libero al 100%, perché in acqua non ci sono barriere e riesco a tirar fuori il meglio di me. Poi mi ha dato la possibilità di crescere tanto, sia come atleta, come persona, confrontandomi con le altre persone affette dalla mia stessa patologia e dallo staff tecnico che mi seguo, insomma. Ecco, somiglia molto a una cosa che una volta mi hai detto tu, Maria, in un'intervista, ti ricordi? Il discorso del confrontarsi della libertà, diciamo, sì, perché fondamentalmente l'acqua è quell'elemento che poi ti permette di abbandonare tutti gli ausili che hai nella vita quotidiana, quindi in quel momento ti senti proprio padrone del tuo corpo, di quello che il tuo corpo realmente riesce a fare nonostante difficoltà. e credo che questo senso di libertà appunto accomuni non solo a me, ma come ha detto bene anche altre persone, altri atleti, tra cui Emanuele. Eh sì, sì. Ma anche a me succede quando vado in acqua, sai? Sì, perché poi alla fine le sensazioni sono sempre quelle, poi magari nella nostra situazione si acutizzano ancora di più certe percezioni. Eh sì, io però avrei un'altra curiosità, la vuoi chiedere tu oppure la chiedo io? Diciamo che scendiamo più nel particolare, nel dettaglio. Siamo tutti curiosi, Emanuele. Fate pure, fate pure. Abbiamo l'occasione di poterlo chiedere a una persona che l'ha vissuto e quindi ti chiediamo come è stato partecipare ad un europeo che per te è stato particolarmente significativo, visto la medaglia d'oro che hai riportato nei 50 Rana SB2, insomma. Sì, partecipare ad un europeo è stata, prima di tutto, per me è un'occasione di crescita sia a livello umano che come atleta, perché confrontarsi con i più forti in Europa non è cosa che capita tutti i giorni. Poi diciamo che il risultato ottenuto ai campionati di Madeira è soltanto la ciliegina sulla torta di un percorso che è stato lungo, faticoso e particolare, perché spesso le persone si soffermano soltanto a guardare la gara al momento, dimenticando poi tutto il lavoro che c'è dietro, insomma c'è tutto il lavoro della famiglia, dello staff tecnico che ti segue, che poi sono quegli elementi, quel contorno che ti portano a raggiungere con il loro lavoro un risultato del genere. Ecco, noi adesso Maria che ne diresti se facciamo una pausa musicale? Poi arriviamo alle Paralimpiadi, quindi vi teniamo anche un po' di suspense. Sì, arriviamo ancora di più al gradino superiore, diciamo. Vi mettiamo l'acquolina in bocca, cari amici e all'ascolto e amiche. Vedi, la vita è una piuma, si balla e si trema, amore mio, non sono per niente vicino a un addio, non essere triste, amore mio. A volte ci perdiamo i sottotitoli del cuore, a volte ci perdiamo, a volte io non ho. Finito Io non ho finito Guarda che cosa mi tocca Cucirmi la pelle e poi la bocca, ho gli occhi da grande, più grandi di me. Vinciamo ai rigori, io e te, ci metto il coraggio. E il mio domani intero è questo tempo mezzo rotto, ma nonostante tutto, tutto. Io non ho finito Io non ho finito, fuori a primavera. Io non ho finito Io non ho finito Oh 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 La gioia di sapere che dovunque ce ne andremo Non ci lasceremo mai Io non ho finito Perché ho sette ore Io non ho finito Anche con i crampi, con la fine sulla faccia Con il dolore che mi schiaccia e non lo sai Anche con la gioia di sapere che dovunque ce ne andremo Non ci lasceremo mai Io non ho finito Eccoci! Oggi la regia ha deciso di amazionarci con Niccolò Agliardi Io non ho finito Braccialetti rossi, te lo ricordi? Sì sì, diciamo che è una puntata già abbastanza emozionante Per quanto mi riguarda Quindi abbiamo finito a peggiorare la situazione No, no L'abbiamo migliorata Allora Eravamo rimasti con il nostro Emanuele Manigliano Che ci raccontava un po' quali erano le sue impressioni circa l'europeo Esatto E devo dire che mi sono ritrovata molto in quello che ha detto riguardo al fatto che comunque lo sport del nuoto è uno sport individuale ma comunque accompagnati dalle giuste persone diventa anche uno sport collettivo diciamo in cui la gioia di aver raggiunto un traguardo diventa collettività Però adesso siamo arrivati alle Paralimpiadi Tu Maria avevi una curiosità grossa Diciamo che le Paralimpiadi sono come il sogno di ogni atleta e oggi abbiamo l'occasione di poterlo chiedere proprio come è stato partecipare ad una Paralimpiade che per te era appunto la prima Paralimpiade quindi emozione ancora più forte Sì, partecipare ad una Paralimpiade è stata un'emozione incredibile sia dal primo all'ultimo giorno ovvero dal ritiro di Sendai fino a quando poi abbiamo lasciato il villaggio di Tokyo E' un'esperienza che ti trasmette delle emozioni incredibili e ti fa capire quanto è bello rappresentare la tua nazione perché sai che in quel momento l'intera nazione si affida alle tue prestazioni per gioire insomma Aver fatto parte della spedizione di Tokyo in un anno in cui l'Italia sportiva sta praticamente avendo fortunatamente il ruolo di schiacciasassi in tutti gli sport è un qualcosa che mi rende particolarmente orgoglioso Dall'alto umano ti dà l'opportunità di crescere in maniera smisurata e ti dà consapevolezza di tutto quello che puoi riuscire a fare A livello sportivo è il sogno di ogni atleta come hai detto prima Era anche il mio sogno da bambino quindi rendermi ad oggi che sono tornato dall'esperienza giapponese faccio ancora fatica a credere di averlo realizzato Mi ricordo una cosa che scrissi su Facebook nel 2016 durante le Olimpiadi di Rio Scrissi oggi le guardo in televisione tra qualche anno non lo so Quindi questo già magari può far capire alle persone nel mio cuore io quanto ci credevo e quanto speravo in tutto questo sogno Ti dico una cosa io l'ho letto quel post e me lo ricordo e tu sai che appunto vi ho sempre seguito in generale a tutti quanti ma in particolare sai che tengo molto alla nostra amicizia e tengo molto a te appunto come ho detto prima come atleta E quando vederti proprio lì mentre guardavo le Olimpiadi da casa mi ha dato un'emozione allucinante quindi rientra nel discorso che dici che praticamente in cui hai detto che ti immaginavi tutti noi a fare il tifo per tutta la nazionale Comunque sia come sportivo che come persona cosa ti sei riportato da questa esperienza? Ma come sportivo mi porto a casa la soddisfazione di aver fatto parte della spedizione più numerosa della storia e le due finali Poi tutte le emozioni vissute con la squadra il legame che si è creato che di base era ed è molto molto forte nel nostro gruppo Siamo un gruppo ben unito, compatto che sa quello che vuole perché poi in acqua si va individualmente ma poi durante i raduni si crea il gruppo e si diventa Sbagliano secondo me quando dicono che il nuoto è uno sport individuale perché è individuale soltanto nel momento in cui gareggi ma dietro nei raduni, negli allenamenti c'è la forza e l'unione di tutto il gruppo Italia A partire da noi atleti fino allo staff tecnico che ci infonde una sicurezza e una fiducia al di fuori del normale Ma per caso ci hai sentito mentre io e Maria preparavamo questa puntata ieri perché dicevamo le stesse cose? Sì sì diciamo che era proprio... Giuro che non ho sentito niente Diciamo che era proprio quello, diciamo quello che stai dicendo era il messaggio che volevamo lanciare e quindi ti ringraziamo in particolare ancora di più per questa testimonianza che stai dando Quali sono i prossimi obiettivi? Allora il prossimo obiettivo sicuramente è quello di ricominciare a nuotare inizio lunedì E' finito il riposo Penso che ci saranno gli italiani in basca corta, non c'è ancora una data precisa insomma la federazione sta stilando il calendario E poi ci concentreremo per un'altra stagione importante che se tutto va come deve andare culminerà con l'appuntamento dei mondiali Ti auguriamo di realizzare tutto ciò in cui credi come stai assolutamente già facendo Ci rivediamo in basca spero il prima possibile Ti aspetto, no? Mi aspetti, ti sono mancata un po' Vi verremo a seguire anche noi Mi seguiremo, mi seguiremo Mi fa piacere che mi aspetti allora Una frase che ti rappresenta, giusto per chiudere in modo originale diciamo? Una frase che mi rappresenta può essere, ma nella vita in generale Rappresenta la tua storia un po' come persona e come... Mai mollare, mai mollare, questa è sempre stata la mia frase ma da sempre perché avendo una patologia del genere sai alle difficoltà che... Assolutamente Sia dalla società che dal lato fisico diciamo così Insomma nel corso degli anni per tutte le cose affrontate non mi sono mai lasciato abbattere e mai lo farò Quindi la mia frase è questa, sono sempre stato uno che nonostante i periodi difficili, i momenti difficili ha cercato e cerca di andare avanti sempre al massimo delle sue possibilità Ti assicuro che da fuori si nota molto questa forza Meno male, meno male Ti ringrazio Grazie a voi Speriamo di rivederti molto presto, un bacione Va bene, un bacione, grazie a tutti Grazie mille Ciao, ciao Ema Ciao Ema Ciao Allora Maria, veramente è stata una puntata emozionante ma vi baci come al solito Sì, sì, mi è piaciuta in modo particolare, ripeto ci tenevo molto perché Lui è una persona molto energica e penso che questa energia sia emersa anche nelle sue parole Allora, noi però tra 15 giorni torneremo in onda, è vero? Esattamente, sempre qui alla stessa ora, sempre noi due, squadra di pinci e non si cambia Brava, esatto Ormai vi è trasmesso questa cosa dell'esatto, guarda, si contagiosa Esatto Mamma mia, mannaggia Diamo i saluti, salutiamo Diamo appuntamento alla prossima volta, le piattaforme per seguirci ormai le sapete Sì, sono le stesse, sono le solite Sempre E quindi, ciao Maria Alla prossima Ciao, ciao a tutti Abbiamo trasmesso, questione di sguardi, a cura di Maria De Nicola